15 candidati marchigiani, 6 della provincia di Pesaro Urbino. Questo il numero della rappresentanza del nostro territorio che dovrà sgomitare fra gli oltre 120 candidati che si presenteranno alle elezioni europee nella circoscrizione dell'Italia centrale. Ieri è infatti scaduto il termine ultimo per presentare le candidature all'elezione al Parlamento europeo dell'8 e 9 giugno che saranno simultane alle elezioni amministrative. Una battaglia elettorale complicatissima come ricordano i precedenti che da 20 anni non vedono nessun marchigiano eletto a Bruxelles. Il meccanismo elettorale prevede infatti che 15 dei 76 eurodeputati italiani che siederanno al Parlamento europeo saranno eletti nella circoscrizione Italia centrale con sistema proporzionale. Un distretto elettorale sovraregionale che comprende oltre alle Marche anche il Lazio, la Toscana e l'Umbria. Ci proveranno i due sindaci uscenti della seconda e terza città delle Marche, vale a dire Matteo Ricci da Pesero e Massimo Seri da Fano. Ricci è tra i tre nomi del Partito Democratico candidati assieme alla Conterranea, nonché ex deputata Alessia Morani e al sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi. Seri è candidato con azione e il partito di calenda presenterà anche Germano Craia e Umberto Trenta. Altro fanese in corsa è il parlamentare Mirko Carloni che per primo esternò la sua volontà di correre alle europee. Assieme a lui nella Lega candidata anche Anna Menghi. Centrodestra completato dalle candidature del consigliere regionale Carlo Ciccioli per Fratelli d'Italia e di Graziella Ciriaci per Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle Marchigiano presenterà invece le candidature di Mirella Emiliozzi e Sergio Romagnoli. Fra i pesaresi in corsa anche Tiziano Busca per Stati Uniti d'Europa e l'assessora del Comune di Pergola Sabrina Santelli candidata per Alleanza Verdi-Sinistra assieme ad Agnese Santarelli.